Dunque tra meno di 24 ore entra in vigore l'obbligo vaccinale per i lavoratori delle forze dell'ordine ma anche della scuola di cui ci occupiamo in particolare all'inizio del nostro telegiornale collegandoci con Marina Moretti che ci fa un po' il punto della situazione in Abruzzo per capire se ci sono dati, se ci sono soprattutto aspettative, e soprattutto se ci sono scenari da delineare alla luce di questa novità per il mondo della scuola nella nostra regione. Marina, buon pomeriggio, eccoti qui, penso che i tuoi ospiti siano appartenenti proprio a questo mondo, a te. Sì, intanto buon pomeriggio a te e i nostri telespettatori, con Diego Martelli siamo davanti al centro vaccinale di Pescara Porta Nuova proprio dove sono in corso naturalmente le vaccinazioni ma poco distante, a fianco direi, sarà anche il centro vaccinale per i ragazzi e i bambini dai 5 agli 11 anni che a partire dal 16 potranno prenotarsi. Lo cito e abbiamo scelto questa location perché comunque riguarda anche il mondo della scuola che però vive un altro momento a partire da domani, cioè quello dell'obbligo vaccinale, come hai giustamente detto, i lavoratori della scuola di qualsiasi tipo, docenti, personale ATA e tecnici amministrativi rientrano in quelle categorie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale. Sono i sanitari, sono i lavoratori delle forze dell'ordine e c'è anche il personale scolastico dunque a partire da domani. Come si stanno organizzando le scuole con le circolari che arrivano dal Ministero e che spiegano come si procede anche nella fase dei controlli, chi non adempierà a questo obbligo verrà sospeso senza stipendio ma potrà rientrare nel momento in cui effettuerà la vaccinazione e quindi tornerà nelle condizioni stabilite dalla normativa. Per sostituire i docenti che verranno sospesi perché non avranno fatto la vaccinazione si provvederà a delle supplenze e ovviamente supplenti che dovranno essere vaccinati perché la condizione è quella, per insegnare bisogna essere vaccinati. Poi questi supplenti una volta rientrato il docente titolare il loro contratto scadrà. Va tutto bene? Non proprio perché qualche perplessità da parte dei rappresentanti sindacali c'è e vi dico anche subito che abbiamo invitato anche Puglielli della Cislema che è impegnato nel congresso e comunque sì, andiamo a sentire le posizioni di Fabiola Ortolano della UIL e di Nicola Trotta della CGL. Mondo della scuola rivoluzionato anche da questa normativa nuova, insomma da questo obbligo vaccinale. Avete perplessità o sostanzialmente vi trovo d'accordo? Il personale della scuola ha risposto sempre in maniera pronta a tutte le misure di sicurezza e prevenzione che il governo ha stabilito. I dati di vaccinazione sono altissimi, chiaramente superano il 90% per tutto il personale occupato nel settore scolastico. In questo momento anche il provvedimento che prevede un'equiparazione tra personale scolastico uguale al personale sanitario e alle forze dell'ordine risponderanno anche ai nostri colleghi. Chiaramente quando un sistema non può funzionare a 360 gradi è chiaro che nel momento in cui si va ad attivare una procedura si creano delle disformità in altre. Penso per esempio alla questione della sostituzione. Non sarà facile garantire, anzi sarà impossibile garantire la continuità a quegli studenti che hanno iniziato l'anno scolastico con dei docenti a settembre e adesso dovranno cambiare docente e con la difficoltà anche per le scuole in tutte queste incombenze che gli sono piovute addosso di dover reperire il personale supplente che non è sempre disponibile e a volte anche nelle stesse gradatorie non è facile trovare questa disponibilità. Quindi una discontinuità, una ricaduta indiretta in quello che è il diritto all'istruzione e alla famiglia. Trotta? Allora, prevedere un obbligo vaccinale per il mondo della scuola dove oltre il 93% del personale, ATA e docente risulta vaccinato, lascia un tantino perplessi. Il paradosso poi è che l'obbligo vaccinale resta per i docenti e per gli ATA. Non viene previsto per le altre categorie che nella scuola lavorano ogni giorno. Gli addetti alle menze, il personale, gli addetti di assistenti educativi che comunque assistono per l'inclusione i ragazzini disabili. Quindi non si capisce bene che cosa vogliono fare. Come diceva Fabio la prima, le sostituzioni avverranno, però c'è un problema per il personale ATA perché gli assistenti amministrativi non possono essere sostituiti prima di 30 giorni di assenza. I collaboratori scolastici prima di 7 giorni. Si capisce che finiremo nel caos anche stavolta. Quello che vi vorrei chiedere, è davvero così importante nel senso che questo provvedimento rischia di influire realmente? Insomma, per dirla in un altro modo, sono tanti i non vaccinati non vaccinabili all'interno del mondo della scuola? Sicuramente per la nostra esperienza quotidiana c'è anche una fetta di personale che è ancora reticente ad affrontare la vaccinazione, così come una parte che invece ha deciso di adempiere a questo obbligo vaccinale. La questione però è un'altra che è fondamentale secondo noi. Se la scuola è al centro del paese, se evitare la didattica a distanza, in questi sindacati si sono sempre pronunciati in maniera favorevole, è importante perché la continuità e la didattica in presenza diventa fondamentale per l'educazione degli allievi e delle alunne. È anche chiaro che il Governo si dovrebbe ricordare anche di questo nello stabilire magari una legge di bilancio dove le percentuali di risorse per il rinnovo dei contratti, per la gratificazione di questo personale, sono veramente irrisorie rispetto a tutto il monte di risorse che sono state ridere. Questo è un altro fronte, un altro problema, anche grosso, perché si chiede tanto alla scuola anche in questo momento di emergenza e si dà un po' meno, un bel po' meno di quello che si chiede. C'è qualche, non vorrei suggerirlo, però le chiedo, le hanno chiesto qualche scamotage per evitare questo obbligo vaccinale? Sicuramente sì. Non chiamiamo l'innovax però perché i non vaccinati all'interno della scuola sono persone che comunque hanno paura o sono titubanti dal punto di vista psicologico più che altro. Io direi che sì, hanno chiesto scamotage, hanno chiesto come fare, se non c'è la prestazione lavorativa ovviamente il dirigente scolastico non potrà fare nulla in merito. Diciamo che domani vedremo che cosa succederà, io penso che le malattie ci saranno un bel po'. Volevo aggiungere sul fatto dei contagi, stiamo vivendo, secondo i dati dati dalla nostra esperienza, dei contagi che sono diffusi anche tra il personale vaccinato con doppia dose, quindi non si sa se sarebbe anche meglio fare i tamponi anche al personale vaccinato così saremmo un attimino più sicuri all'interno delle scuole. Mentre l'idea che era circolata in questi giorni di anticipare le vacanze di Natale di una decina di giorni è stata scartata dal Ministro e quindi non se ne parla.